Oggi sarebbero stati 17 anni, 17 candeline su una torta di compleanno che gli amici di Christopher Thomas Luciani hanno deciso di festeggiare comunque per ricordare il sorriso buono e sincero del giovane di Rosciano, prematuramente scomparso, nonostante le tante difficoltà affrontate in una vita troppo breve. Per ricordare il sedicenni ucciso con 25 coltellate in un caldo pomeriggio di fine giugno da alcuni suoi coetanei nel parco Baden Powell di Pescara, poco distante dalla stazione, l'associazione Crocs per la riscoperta dei valori, nata per volere di Olga Cipriano, nonna del ragazzo, ha organizzato un pomeriggio di riflessione sport all'antistadio di Pescara con un evento a ingresso gratuito patrocinato dal comune di Pescara e moderato dal giornalista e collega Luca Pompei. Prima il saluto delle autorità civili e religiose, poi un momento di riflessione con gli interventi del sociologo Galliano Cocco e della psicologa Francesca Costanzo e infine il torneo di calcio con quattro rappresentative giovanili, Cantera Adriatica, Folgore Delfino Curi-Pescara e Pescara Calcio 1936 contro gli amici di Crocs, compagni di squadra di Cristofer, nelle giovanili del Rosciano e non, pronti a scendere in campo per divertirsi proprio come avrebbe fatto il sedicenne. L'evento, ha spiegato nonna Olga, è una mano tesa a tutti quei giovani che si sentono messi da parte e che a volte prendono strade sbagliate, a tutti quei ragazzi che non socializzano e che per ragioni diverse si sentono trascurati e a loro che l'associazione vuole dare ascolto e offrire un dialogo. Oggi, sulle pagine del quotidiano al centro, la pubblicazione della lettera che Ginevra, amica del cuore di Cristofer, ha dedicato al ragazzo scomparso. Ti penso sempre, sai, vorrei poterti rivedere, riebracciare, raccontare anche un piccolo fatto quotidiano. Mi manca tutto di te, il tuo sorriso, il tuo appoggio costante, il tuo coraggio, il tuo buon umore che rallegrava tutti, la tua voglia di vivere, l'altruismo che avevi con tutti, anche se a volte avresti dovuto fare meno per gli altri, il tuo farci ridere anche con i problemi, il tuo essere felice, nonostante quello che hai vissuto nella tua breve ma intensa vita. E ringrazio Dio di averti sempre dimostrato il bene che ti voglio, perché ho capito che eri un bene prezioso prima di perderti, conclude Ginevra. Per chi lo conosceva Crocs era proprio questo, un bene prezioso che amici e parenti hanno deciso di ricordare nel giorno del suo diciassettesimo compleanno.